Mamma mia, mamma mia. Perché non ho una dichiarazione spontanea al tribunale? L'ho detta al signor Presidente dopo. Perché non ho fatto? Ah, non l'ho fatta perché io sono dirigente e quando sono qui dipendo dagli avvocati. I miei avvocati mi hanno pregato di non farlo. L'ho fatta a voi che siete dei diffusori. Ma così non lo fa fuori, verrà. No, beh, scusate perché questo qui... Ma dove decidiamo noi? Quindi, Presidente, mi voglio una curiosità. Senta, signor Stalin, scusi. Sì, e lei è di che giornale è? Di che televisione? Ecco, appunto, grazie. Presidente. Presidente.